Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con i funerali che si sono tenuti questa mattina a Giulianova dei due marittimi Elia Artone e Carlo Mazzi che hanno perso la vita in mare martedì scorso al largo del porto di Giulianova. Una tragedia che ha colpito sia la comunità giuliese ma l'intera comunità del mare che oggi si è appunto ritrovata per l'ultimo saluto ai due marittimi, il servizio di Jacopo Forcella. Una folla commossa ha dato l'addio questa mattina a Elia Artone e Carlo Mazzi, i due marittimi giuliesi inghiottiti dal mare martedì scorso. In prima fila ovviamente il primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro, ma soprattutto un'intera comunità, quella dei lavoratori del mare che piange l'armatore del motopesca Eliana e il marinaio. Gremita la chiesa di San Pietro Apostola, l'elido di Giulianova per le esegue dei due, un funerale congiunto, proclamato anche il lutto cittadino per una tragedia che ha sconvolto le due famiglie, mentre il relitto dell'Eliana rimane ancora ostaggio del mare. Solamente esaminando il relitto infatti sarà più facile capire le motivazioni di questa ennesima sciagura. È una giornata tristissima, una comunità che è stata colpita da un evento tragico, due famiglie che hanno perduto i propri cari, ma soprattutto hanno perduto due persone semplici, due persone umili, due persone che hanno vissuto nel mare, per il mare e per la propria famiglia ogni istante della propria vita e che quel giorno, martedì scorso, erano in mare per riportare a casa il sostentamento per due nuclei familiari. È una tragedia veramente, ieri sono stato all'obitorio sia a Teramo che a Giulianova, è un dolore atroce, un dolore in mani che non se l'aspettava nessuno, è stato come un fulmine a Cerserena, purtroppo altri due nostri lavoratori, pescatori, sono trapassati al mondo del bene. Siamo venuti a dare la nostra solidarietà a questi uomini, a questa gente, a questa comunità. Giulianova è la nostra cugina e noi dobbiamo in questo momento particolare stare vicino alle famiglie. Noi diamo il nostro contributo alla marineria di Pescara e il lutto, domani nella comunità, nella processione, lanceremo la corona, dedica a queste due persone, a questi due fratelli. Il porto è la casa degli operatori del mare, il loro punto di approdo, di difesa, questa è una tragedia che non serve commentare. Ci colpisce tutti, tutti quelli che operano sul porto, ma credo anche tutta la cittadinanza, oltre ovviamente alla marineria in primo luogo. Quindi siamo qui a testimoniare una vicinanza alle famiglie, ma all'intera categoria. Siamo venuti da Pescara qui per onorare la salma di due nostri colleghi. Certo ci dispiace tantissimo, anche se c'è un grande rammarico perché si poteva evitare con queste nuove leggi, con tutte queste restrizioni, certamente qualcuno avrà delle responsabilità. Attimi di paura, ieri sera a Montesilvano, intorno alle 22.30, un incendio divampato nel piazzale della ditta Evangelista Gomme. Le fiamme hanno interessato alcuni pneumatici accatastati nel cortile, il rogo molto probabilmente di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montesilvano e di Pescara che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Cambiamo argomento, il tanto atteso taglio della diga foranea di Pescara è sempre più vicino. Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche ha approvato il progetto esecutivo per aprire la diga pescarese. Stamani il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha illustrato il cronoprogramma di lavori che inizieranno a metà settembre. Il servizio di Alfredo Primante. Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche ha dato parere favorevole al progetto esecutivo per l'abbattimento di una parte della diga foranea di Pescara. Un intervento che costerà complessivamente 3,5 milioni di euro prelevati dai fondi europei, molto atteso soprattutto dalla marineria pescarese e dagli operatori portuali che sono alle prese da anni ormai con l'insabbiamento del porto di Pescara. Dalla regione fanno sapere che le attività propedeutiche all'avvio dei lavori come previsto nel cronoprogramma tracciato dall'amministrazione regionale sono già iniziate. La diga foranea fu voluta anni addietro per arginare la forza dell'acqua del fiume Pescara nel porto canale dopo i danni provocati dall'alluvione del 1992. Ma in realtà in questi anni ha portato soltanto problemi a partire dall'insabbiamento continuo dello scalo marittimo che ne ha bloccato praticamente le attività. La prima tranche dei lavori come detto costerà 3,5 milioni di euro ma a questa cifra si devono aggiungere gli ulteriori 15 milioni inseriti all'interno del masterplan per migliorare la sicurezza e la funzionalità dello scalo marittimo pescarese attraverso il prolungamento delle banchine nord e sud e altri interventi mirati ad assicurare contestualmente l'incolumità degli operatori della marineria. Gli stessi che attendono ormai da anni questo intervento e che chiedono a gran voce che vengano risolti i problemi commerciali del porto di Pescara. Da lunedì ogni giorno è buono ma aspetteremo la fine della stagione balneare per evitare di creare problemi all'economia del mare e perché vogliamo incrociare anche la maturità di un altro intervento già finanziato per 15 milioni di euro riguardante l'allungamento dei due nuovi moli guardiani che sta progettando avanzatissimamente Arap per il quale aspettiamo il visto di assenza di mine dell'autorità militare e poi lo sottoporremo a gara d'appalto. E poi c'è un terzo intervento riguardante l'ulteriore funzionalità della viabilità che deve portare al porto 15 milioni di euro concordati tra noi, Anas e il ministro del Rio per fare in modo che anche il porto di Pescara abbia una viabilità migliorata. Voglio anche dire che ci torna utile per incrociare la grande opportunità delle ZES, delle zone economiche speciali che si radicheranno anche a favore dell'economia di Pescara, vedranno il protagonismo di Ortona, di Vasto, di Termoli perché sarà una ZES che mette insieme Abruzzo e Molise e porterà l'azzeramento degli oneri fiscali e amministrativi per chi fa investimenti produttivi. Paura poco prima dell'alba, Villa Vallelonga nel parco d'Abruzzo dove un orso in cerca di cibo è entrato in un'abitazione in cui c'erano due bambini. L'episodio è avvenuto intorno alle 4. Il plantigrado sarebbe entrato dalla cantina riuscendo poi ad accedere nell'appartamento. La famiglia è stata costretta a barricarsi in una stanza e a chiedere aiuto. I due figli minorenni della coppia sono stati fatti calare dal balcone. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e le guardie del parco. Secondo quanto appreso tra le possibili cause, l'animale era in cerca di cibo e per questo è entrato nell'appartamento. La famiglia ha vissuto momenti di paura in quanto l'orso, non trovando via di uscita, era spaventato e si è agitato devastando parte della casa. Per farlo uscire fuori è stato necessario l'intervento delle guardie del parco per sedarlo. L'orso si è poi risvegliato in buona salute ed è stato nuovamente liberato nell'area del parco. E ora ci spostiamo all'Aquila e parliamo nel prossimo servizio della demolizione della casa dello studente. Stanno proseguendo speditamente i lavori di abbattimento della casa dello studente cominciati nella giornata di ieri. Entro la metà della prossima settimana diventerà un cumulo di macerie, uno dei simboli del terremoto del 2009. Nella casa dello studente morirono infatti otto ragazzi. In quello studentato avevano riposto i sogni di un futuro radioso spezzato la notte del 6 aprile del 2009. Tra qualche giorno quel simulacro del dolore cadrà, non ci sarà più. È stato intanto coperto, per evitare che si danneggiasse, anche il monumento in onore dei morti della casa dello studente. Per consentire i lavori di demolizione, via 20 settembre è stata interdetta al traffico nella parte prospicente alla casa dello studente. Tra i timori dei tecnici c'era che ci fosse del lamianto nelle strutture. Per fortuna almeno questo pericolo è stato scampato. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha illustrato stamani gli indici di vulnerabilità dei plessi scolastici comunali utili per programmare gli interventi da fare. In tema di programmazione il primo cittadino ha parlato della realizzazione di due nuovi poli scolastici e della necessità di un cosiddetto plesso giolli. Sono indici di programmazione. Questi indici ci servono per completare un'attività di programmazione che di fatto noi abbiamo già. Perché? Noi abbiamo già una prima programmazione che abbiamo fatto con l'ufficio speciale per la ricostruzione che riguarda due poli scolastici. In particolare un polo scolastico che parte dalla San Giuseppe e che si continua nel vecchio stadio. Abbiamo avuto il permesso di presentare una perizia di variante per il bando delle periferie, 17 milioni di Euro che ci verranno finanziati. Ed è un primo polo scolastico per circa 700 ragazzi. Poi abbiamo finanziato un secondo polo scolastico nella programmazione che riguarda l'area vicino alla scuola di Alessandro che a completamento sono altri circa 700 posti in strutture modulari da circa 250 posti. Poi abbiamo comunque la Villa Ripa che tornerà ad essere scuola. Accanto a questa prima programmazione c'è una seconda attività di programmazione. Perché nel mio incontro di giovedì a Derrani ho chiesto che ci vengano messe a disposizione le risorse per iniziare l'attività di miglioramento e adeguamento sismico. E ho avuto garanzie a Derrani che nel piano che verrà redatto a gennaio 2018, che è il primo piano a cui il commissario darà seguito, ci saranno le scuole di Teramo. In particolare inizieremo con una scuola che dovremo scegliere, che il Consiglio Comunale sceglierà, che verrà migliorata, adeguata. Il terzo piano di programmazione riguarda una scuola giolli. Io ho posto un tema anche a Fia Derrani, a Curce e anche al governo, che nel momento in cui andremo a fare gli interventi in ogni scuola per migliorare o adeguare, che potranno durare 6 mesi, 8 mesi, dovremo comunque trovare per questi ragazzi una sistemazione. Ed ecco che è necessario avere una scuola giolli. Proprio ieri sera, ho coinvolto anche il Presidente Luciano D'Alfonso in questa mia attività, proprio ieri sera Prima Curcio e il Presidente D'Alfonso mi hanno comunicato che questo discorso si farà e che quindi verrà finanziato. Io sono dell'idea che la struttura che risponde a queste caratteristiche, che può essere pronta prima possibile, è la curva dello stadio, dove c'è già uno studio di fattibilità, già presentato al Commissario Errani, che è già stato valutato positivamente. Punti di forza, criticità e proposte per il miglioramento del servizio sono racchiusi in la gestione della raccolta dei rifiuti a Chieti. Quale futuro? Il dossier sulla differenziata nel Comune Tiatino, realizzato dal WWF di Chieti Pescara e dalla delegazione regionale WWF Young. Servizio. Nessun dito puntato verso l'amministrazione comunale di Chieti, anzi un modo buono di collaborare e contribuire al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti della città, dove anzi la differenziata tocca il 60%, ma è possibile migliorare il dato e superare delle criticità riscontrate dalla cittadinanza. Per questo WWF di Chieti Pescara e WWF Young regionale hanno realizzato un dossier sulla raccolta dei rifiuti a Chieti, svolta con l'aiuto dei cittadini. Queste, alcune delle criticità emerse e le principali proposte da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale. Le principali criticità, basta girare per la città, si vede che sono cresciuti a dismisura il numero di punti di raccolta, ogni condominio ha il suo set di bidoni esposti su strada. Questa è una grave criticità anche perché non c'è responsabilità nel buttare i rifiuti, chiunque può andare a buttare i rifiuti nel bidone del vicino sostanzialmente. Altra criticità, possiamo dire, poca informazione. I cittadini, a parte all'inizio che sono stati formati con un'assemblea e spesso con citate sovraffollate, sono poi stati lasciati sostanzialmente in abbandono. Le nostre proposte sono di pensare una raccolta, diciamo, porta a porta per classi di utenze, quindi utenze singole, condomini con pertinenze o condomini senza pertinenze. Per quanto riguarda la formazione chiediamo incontri cadenzati, non solamente all'inizio servizio, ma verifiche ogni sei mesi, maggiore ascolto di cittadini, quindi un servizio di call center locale, magari supporto WhatsApp, email efficienti, perché i cittadini hanno bisogno di essere condotti mano per mano per fare una raccolta differenza di qualità. La qualità è il punto fondamentale. Quanto è stato difficile, o magari non lo è stato, fare questo dossier con l'aiuto dei cittadini? I cittadini sono stati molto importanti e hanno risposto molto bene, tutti molto interessati, anche perché hanno trovato nel VUF un'interfaccia pronta ad ascoltarli. Spesso non riescono a trovare qualcuno a cui comunicare in maniera serena le prove di difficoltà. Problema sicurezza e degrado. Per i consiglieri comunali di centrodestra di Pescara occorrono risposte concrete perché la situazione è diventata insostenibile. Lunedì arriverà in consiglio l'emendamento per una variazione di bilancio per dirottare i 200 mila euro destinati al nuovo mercatino etnico all'acquisto di telecamere da installare in città. Paolo Renzetti. Antonelli, si torna a parlare di emergenza sicurezza Pescara, il problema del degrado, quali sono le proposte del centrodestra? Purtroppo c'è una grande confusione, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. Dobbiamo fare ordine. Le questioni attinenti alla sicurezza dei cittadini riguardano le competenze delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardie di finanza. La lotta al degrado urbano è una competenza della polizia municipale. Ci pare che su questa cosa il sindaco abbia generato una grande confusione anche all'interno delle altre istituzioni coinvolte. Allora, se le competenze sono queste, noi rivendichiamo della nostra proposta l'esigenza di garantire la presenza della polizia municipale H24, soprattutto nei mesi estivi e nei fini settimana. Basta, per esempio, adeguare il piano occupazionale. L'attuale amministrazione pensa a settembre di assumere tre dirigenti, che non servono, non sono la priorità. Quei tre dirigenti, se li togliamo di mezzo, garantiscono copertura finanziaria per assumere altri dieci vigili urbani. Si possono assumere vigili stagionali, su cui l'amministrazione è in palese ritardo. Si possono recuperare i circa dieci vigili urbani distaccati presso il Tribunale di Pescara. La competenza sull'amministrazione della giustizia è una competenza dello Stato, non la deve garantire il Comune. Lunedì proporremo di togliere i 200 mila euro che dovrebbero finanziare il mercatino etnico, cosiddetto mercatino etnico, per finanziare invece un sistema integrato di telecamere intelligenti, anche questo come obiettivo per migliorare le condizioni di sicurezza e una lotta effettiva al degrado urbano. Invitiamo il Sindaco a usare i provvedimenti che il decreto Miniti gli ha già conferito, e cioè la possibilità, per esempio, di usare il DASP urbano, un foglio di via temporaneo per coloro i quali si macchiano di attività che sono in contrasto con una convivenza civile. È inaccettabile che ci sia gente che urina davanti alle porte delle abitazioni private, bisogna intervenire con fermezza e rigidità. Questo è quello che noi chiediamo e che proponiamo all'amministrazione comunale. Nuovi servizi, abbassamento delle tasse, maggiori possibilità di esenzione. Tutto questo nel Manifesto Generale degli Studi dell'Università d'Annunzio, illustrato ieri dal Rettore Sergio Caputi. Aumentano i servizi e diminuiscono le tasse. Varato il Manifesto Generale degli Studi dell'Università d'Annunzio per l'anno accademico 2017-2018, ieri il Rettore Sergio Caputi ha illustrato il nuovo sistema contributivo per immatricolati e iscritti. Sfruttando delle norme contenute nella legge di stabilità è stata alzata la soglia del reddito ISEE da 13.000 a 15.000 euro, rispetto alla quale scatteranno le esenzioni per le matricole, così come per gli iscritti al secondo anno, compatibilmente con i risultati negli studi. Le novità principali sicuramente sono quelle di un abbassamento del livello di tassazione e ci sarà praticamente una premialità per chi ha un reddito ISEE basso, più basso, fino a 13.000 o 15.000 euro. Gli studenti non pagheranno assolutamente le tasse presso la nostra università, che tra l'altro è già una delle università con la tassazione più bassa in Italia. E poi c'è anche una premialità nella esclusione del pagamento delle tasse da parte degli studenti che si distinguono maggiormente per la qualità del loro curriculum di studi. L'adannunzio vuole essere ancora più attrattiva e per questo motivo ha messo in cantiere dei nuovi servizi, come il bike sharing, nuove proposte di svago per gli studenti di Chieti e Pescara ed un database degli alloggi che rispettano criteri antisismici ed abbiano prezzi calmierati. Come rappresentante degli studenti sento di dover, probabilmente per le prime volte in questi anni, dover elogiare la nostra università, essere qui a dire che siamo contenti e felici per il nuovo sistema contributivo. Un sistema contributivo, come diceva il Rettore, che non va solo a premiare gli studenti con un ISE basso, con un reddito basso, ma è un sistema contributivo che vuole dire agli studenti e ai futuri immatricolati, bene venite a studiare l'adannunzio perché qui l'adannunzio ti aiuta negli studi, ma non solo in termini economici, ma anche ti vuole premiare l'adannunzio in un'università che chiede di attirare a sé gli studenti più meritevoli. Cambiamo argomento, la manifestazione Centro per Centro Storico all'Oretto Prutino sarà protagonista di questo fine settimana con la sua quarta edizione, in servizio della redazione di Vestina News. Luca Pellegrini torna Centro per Centro Storico, edizione numero 4, una bella edizione con tante novità. Abbiamo quest'anno, grazie alla riapertura anche di parecchie strade all'interno del Centro Storico, abbiamo avuto la possibilità di allungare di parecchio il percorso, quindi arrivare fino a Piazza Mazzini, zona Mercatini, poi abbiamo avuto la possibilità di aprire questa magnifica location che negli anni scorsi rimaneva fuori percorso, splendido allestimento per quanto riguarda il Museo del Calcio, poi con l'agriturismo con le cera, Marchesi de Cordano, grazie alla collaborazione con l'associazione Oneiro, l'olio pretoli per Luigi Pace, avete creato veramente una situazione piacevole. Invece nel Centro Storico che cosa si può trovare? Abbiamo tre stand principali per quanto riguarda cibo, ogni stand ha comunque sempre a sé quel calendario musicale, quel programma musicale per tutte e quattro le sere, inoltre abbiamo dislocato per tutto il percorso, diversi artisti, artigiani, pittori, c'è parecchio da vedere quest'anno. Il clou è sicuramente la Notte Bianca di sabato 29. Notte Bianca sicuramente, prevista la cover band Pink Floyd, poi Studio 54 e il DJ Daniele Di Carlo, poi per proseguire a domenica ci accompagneranno i Demodè, una cover band ufficiale dei Depeche Mode. Il Museo Itinerante del Calcio Internazionale ha fatto tappa a Loreto Aprutino per consegnare un assegno in favore degli orfani di Rigopiano. Luigi Carvelli è il presidente del Museo Internazionale del Calcio e oggi si trova a Loreto Aprutino per questa consegna di un'assa di beneficenza a favore degli orfani, delle vittime di Rigopiano. Sì, innanzitutto è un grande piacere essere qui, è una location veramente fantastica, lanciamo appunto il nostro museo itinerante, girala tutte le città d'Italia, siamo qui per consegnare appunto i soldi che abbiamo raccolto dopo aver venduto all'asta le maglie usate nella partita ternana a Avellino. Con la vendita abbiamo raccolto quasi 1600 euro e è un vero piacere consegnarli stasera al Comune. Di questo devo ringraziare Renato Mariotti perché è stato veramente il deus ex machina di tutto ciò. Abbiamo portato qui tutte le maglie più importanti o comunque molte delle maglie più importanti della nostra collezione. Abbiamo la maglia di Tardelli dell'Urlo dei Mondiali dell'82, però ripeto per noi è un grande piacere essere qui e ringrazio parte del Comune, anche Renato Mariotti che ha reso tutto ciò possibile. Dobbiamo ringraziare il Presidente della Ternana Calcio, Simone Longarini, che ha sposato questa grande iniziativa insieme al Museo del Calcio Internazionale e ha raccolto questi fondi per gli orfani di Rigopiano. Noi come amministrazione, ma come tutta la cittadinanza, lo ringraziamo per quello che anche loro hanno contribuito ai nostri concittadini più sfortunati. E ora alla pagina dello sport, parliamo di Pescara che oggi inizia la seconda parte del ritiro precampionato, aspettando la prima gara ufficiale in Team Cup di domenica prossima 6 agosto. Sono 30 i giocatori che il tecnico Zeman porta con sé a Palena, ma il mercato rende questa lista ancora molto provvisoria. Jacopo Forcella. Non saranno 28, ma almeno per il momento 30 i giocatori in partenza da Pescara per la seconda parte del ritiro precampionato a Palena. La lista diramata da Zeman però sembra davvero ancora molto provvisoria. Un po' per questioni che potrebbero non riguardare direttamente il mercato. Un po' perché alcuni che oggi sembrano in lista di partenza potrebbero alla fine rimanere in bianco-azzurro. Mancano, ma per infortunio Cesare Bova e Michele Fornasier. I due difensori infatti restano a Pescara per curarsi e riprendersi al meglio e potersi presentare in forma al primo impegno ufficiale della stagione. Per molti invece è un'esclusione che sa di una rivederci e grazie. Infatti mancano coloro che certamente non faranno parte della rosa per il campionato di Serie B. Non c'è Stendardo che a giorni, se non a ore, concluderà ufficialmente la sua avventura in bianco-azzurro. Manca all'esterno Andrea Rossi, così come gli elementi che in questi ultimi tornei hanno trovato spazio in prestito in terza serie. Dalla lista esclusi anche Bulevardi, Milicevic, Polidori, vicino però alla Provercelli, Lucaforte, Vitturini che ha un accordo con il Carpi e l'altro infortunato Andrea Cocco. Tolti questi rimangono in 30, ma come detto è un numero che Zeman continua a considerare provvisorio, anche perché alcuni di questi, pur non essendo stati mesi sul mercato, potrebbero ricevere offerte che il Pescara valuterà. Ad esempio proprio Bovo, che Spalle e Crotone vorrebbero per consolidare da subito la propria linea difensiva, o come il capitano Ledian Memushai, su cui è tornato il Sion dopo la scopola rimediata in Europa League, e che vorrebbe l'albanese per dare consistenza alla mediana. Il Pescara chiede una cifra che si avvicina al milione di euro. Gli svizzeri vorrebbero spendere decisamente di meno, ma come di consueto, più il mercato inizia ad avere i giorni contati, più limare i dettagli, diventa esercizio semplice. O ad esempio come Ben Ali, che potrebbe diventare l'ideale sostituto di Patrick Schick alla Sampdoria, in caso di partenza del cerco. Ben Ali andrebbe a rinfoltire una rosa di ex Biancazzurri che già comprende Torreira, Ferre e Caprari. Non è escluso che a centrocampo i movimenti in uscita potrebbero riguardare anche Bruno e Selasi, da valutare anche la posizione di Nicastro, altro giocatore che potrebbe rimanere in cadetteria, ma con un'altra maglia addosso. E in entrata allora è ancora tutto fermo, aspettando che qualcosa cominci a muoversi sul fronte cessioni ovviamente. La società Biancazzurra continua a lavorare, ma per gli affondi c'è da aspettare. Ad esempio quelli per Massimiliano Gatto, Matteo Pessina e l'eventuale ritorno in Biancazzurro di Antonio Balzano. Intanto Zeman parte con la truppa dei 30 e con parecchi giovani che col boemo sanno di non essere solamente degli aggregati. Dell'Icari e del Sole saranno quasi certamente il futuro del Peschiara. Il tecnico però si augura che possono esserne anche il presente. Il Teramo batte di misura la Fidelis Andria, parliamo di Lega Pro, il gol partita realizzato da Ciro Foggia. La gara giocata ieri a Rivi Sondoli, pesantemente contestato il presidente Campitelli in tribuna, mentre il tecnico Asta continua a chiedere a gran voce rinforzi per la sua squadra. Vediamo. Vittoria sì, ma non basta. Il Teramo batte di misura la Fidelis Andria nella terza uscita del precampionato, ma contestazione a Campitelli a parte sono le dichiarazioni di Asta al termine della gara a prendersi da sole il proscenio. L'allenatore chiede subito dei rinforzi, così la squadra è ancora incompleta in tutte le zone del campo, dice. Sul terreno di gioco il tecnico Biancorosso invece non può contare su Speranza e Tulli alle prese con piccoli problemi fisici e allora concede una chance al giovane Fagioli che in coppia con Fratangelo compone la coppia Bebi alle spalle di Foggia. Dietro è Altobelli a prendere il posto del capitano Biancorosso insieme a Caidi. Tra i pali va Lewandowski con calore in panchina. Pugliesi che si fanno vedere al sesto con la punizione alta di Matera. Ancora la formazione di Loseto al ventunesimo va vicino al gol col sinistro liftato di Bottalico che per questione di centimetri non trova l'incrocio dei pali. Il Teramo però trova la rete che sblocca il risultato dopo neppure un minuto. De Grazia sfonda in zona centrale, resiste al ritorno della difesa della Fidelis e serve a Foggia un pallone che la punta spedisce lì dove Mauro Antonio non può proprio arrivare. La reazione della squadra di Loseto però non si fa attendere. Altri 60 secondi al travestione di Parisic. Pesca il colpo di testa di Lattanzio che si infrange sulla traversa. Altra occasione per il Diavolo al trentatresimo. Ancora un break di un De Grazia incontenibile. Serve nel corridoio Foggia che prova l'Euro goal da 35 metri provando a scavalcare Mauro Antonio ma peccando nella mera. Ancora Teramo al minuto 42. L'azione parte da sinistra con Fagiole e si sviluppa fino al fronte opposto con Fratangelo che serve l'inserimento di Ilari. Conclusione centrale respinta da Mauro Antonio. Nell'intervallo Asta lascia negli spogliatoi proprio Fratangelo per Paolucci avanzando De Grazia. E al 57esimo la sfonda aerea di Caidi preme la conclusione proprio di Paolucci che va a raccogliere l'assist del compagno di squadra. Ma l'ex Taranto angola troppo. Una conclusione decisamente non impossibile. Il secondo tempo però si gioca a ritmi decisamente più blandi. I cambi dall'una e dall'altra parte frammentano il gioco e sugli spalti c'è anche la contestazione di alcuni ultras biancorossi nei confronti del presidente Campitelli. Le ruggini del post avora dunque non sono affatto accantonate e lo scontro tra il massimo dirigente e l'ala più intransigente della tifoseria continua. Dunque vittoria di misura per il diavolo ma le dichiarazioni di Antonino Asta al 91esimo sono destinate a riempire i prossimi giorni. Il tecnico si aspetta rinforzi da giorni e al termine della terza Michevoli torna a chiedere a gran voce uno o due nuovi elementi già la prossima settimana. Magari in tempo utile per il primo impegno ufficiale della stagione. E sì perché il Teramo il 6 agosto sarà impegnato in Coppa Italia. Affronterà la fermana sul neutro di Fano nel triangolare che comprende anche il Racing Fondi. Curiosità proprio quella fermana che in preparazione a Rivisondoli ha potuto assistere alla prima parte dell'amichevole del diavolo. Se pensiamo il primo tempo un'età media clamorosa 2099-1997 abbiamo retto contro l'Andrea che non dimentichiamo squadra importante quindi se io fossi in voi è stata una grandissima giornata oggi però piccoli passi vuol dire che mi sa che qui devo fare anche io un passito dietro a pensare che noi ci dobbiamo salvare signori lo sapete lo sanno tutti dalla società sottoscritto quindi questo è il nostro obiettivo arrivare a salvarci quindi mettere in campo tutto quello che abbiamo. Sono contento i ragazzi stanno dando l'anima di più però non posso nascondere che ci manca qualcosa perché dare l'anima è una cosa poi si gioca a calcio e ci vuole un po' di qualità. Manca cosa? Manca tanto manca tanto in tante zone del campo quindi va benissimo la società lo sa davanti mezzo al campo e dietro e quindi con tutta serenità io sono già in clima partita sono già in clima campionato quindi io voglio sempre ottenere il massimo ma la società mi ha detto che piano piano mi garantirà ci garantiremo insieme perché per entrambi dobbiamo fare bene e di portare a casa qualche giocatore utile alla causa non vuol dire che abbia un nome importante ma che ha voglia di portare in alto questi colori più che mai perché io ho tanta voglia, determinazione quindi voglio giocatori che diano tutto se poi in più hanno qualità e comunque la qualità viene fuori perché anche oggi in certi giocatori mi è piaciuta e tanto di guadagnato. Baccio Terracino ad esempio? Ma è uno di quei giocatori che non lo scopro io, bravo nell'uno contro uno, sa fare l'esterno di destra e sinistra, l'emmenenza sottopunta. Abbiamo bisogno di quei giocatori che puntano l'avversario che creano superità numerica e lui può essere uno di quelli. E la nuova stagione della Lega Pro nasce nel prestigioso Exaurum di Pescara il prossimo 10 di agosto, infatti alle ore 18 ci sarà la cerimonia di presentazione dei calendari 2017-2018 del campionato che torna a chiamarsi di Serie C. Abbiamo scelto Pescara per dare avvio ad una nuova stagione piena di entusiasmo e passione nel cuore turistico di quell'Abruzzo che ha bisogno di grande energia e positività per ripartire con slancio, ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro. Saranno presenti il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, l'assessore allo sport Giuliano Diodati e personalità del mondo del calcio e dello sport. Nel corso della cerimonia sarà dedicato spazio a iniziative, progetti ai nuovi partner della Lega Pro che accompagneranno la stagione 2017-2018 in campo. Il fischio d'inizio ufficiale della stagione sarà per il 6 di agosto con la Coppa Italia di Lega Pro edizione numero 46 e poi il 27 di agosto l'inizio del campionato di Serie C. Ed era questa l'ultima notizia del TG6 che tornerà con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.